Doveva essere lo spettacolo nei cieli di maggio, un bagliore nel blu atteso dagli appassionati di fenomeni astrali spettacolari. Invece la cometa Atlas non la vedremo sfrecciare sopra le nostre teste, o almeno non così come l'abbiamo immaginata. Senz'altro non ha occhio nudo come ce l'aspettavamo. Atlas, così come tante altre comete, ha visto evaporare il suo nucleo di ghiaccio quando si è avvicinata al Sole e si è frammentata in tante comete più piccole. Ci ha svelato i suoi segreti Albino Carbognani, astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e divulgatore scientifico. È vero che doveva diventare visibile a inizio maggio e quindi doveva superare la soglia della visibilità occhio nudo, anzi diciamo le prime previsioni fatte qualche paio di mesi fa erano molto ottimiste perché doveva diventare davvero una cometa molto brillante. In realtà è successo quello che può succedere a una cometa, cioè che in avvicinamento al Sole per effetto dell'evaporazione del ghiaccio che si trova sulla superficie di questi corpi celesti, il nucleo si è frammentato. Quindi si è frammentato attorno alla fine di marzo o inizio aprile, quindi si è prima spezzato in quattro blocchi principali che a loro volta si sono frammentati e quindi diciamo il nucleo della cometa adesso non è più un blocco unico come era qualche settimana fa ma sono tante piccole cometine che stanno viaggiando più o meno tutte insieme percorrendo l'orbita originaria della cometa e ma questa frammentazione ha determinato una drastica diminuzione della luminosità della cometa Atlas. Quindi doveva essere osservabile a occhio nudo eccetera non sarà più osservabile a occhio nudo purtroppo e ci vorrà un telescopio anche abbastanza diciamo non un telescopio banale, insomma un buon telescopio, gli amatori la potranno seguire, la stanno seguendo eccetera eccetera, ogni giorno mi arrivano fotografie della cometa però non sarà più quella cometa visibile a occhio nudo che ci si aspettava. Niente di strano è la vita delle comete, quello che è accaduto ad Atlas è un fenomeno comune, meno scontato invece è il suo albero genealogico, si pensa infatti che la cometa Atlas possa essere sorella di una cometa avvistata nel 1844 ed entrambe discenderebbero da una mamma comune passata in volo nel sistema solare 6.000 anni fa. Questa cometa in realtà ha una storia interessante alle spalle, perché? Perché è diciamo segue un'orbita simile a una cometa osservata nel 1844, la grande cometa del 1844 e anche questa fu una cometa brillante eccetera eccetera. Quindi che vuol dire? Che abbiamo due comete che provengono dall'estremi confine del sistema solare che seguono un'orbita simile, hanno un periodo orbitale di circa 6.000 anni. Quindi probabilmente queste due comete, visto che hanno quest'orbita molto simile, non è una cosa casuale e probabilmente si tratta già di frammenti di una cometa progenitrice che 6.000 anni fa, quando è passata al periello, cioè nel punto più vicino al sole, si è frammentata in almeno due comete che poi sono ritornate e a sua volta diciamo il secondo frammento che è passato in prossimità, che sta passando in prossimità della Terra in queste settimane si è frammentata a sua volta. Quindi diciamo è di famiglia se vogliamo metterla così. Perché è importante studiare le comete? Che risposte ci aspettiamo da questi corpi celesti? Sì, tieni presente che diciamo le comete generalmente arrivano dai confini del sistema solare. Arrivano dai confini del sistema solare quindi vuol dire che sono dei corpi primitivi che non hanno subito delle grossi cambiamenti a partire dalla formazione del sistema solare 4 miliardi e mezzo di anni fa. Cioè, ad esempio, mentre la Terra ha subito dei grossi cambiamenti da come era la Terra primitiva all'inizio perché c'è stata la fusione, come dire, la differenziazione gravitazionale, la deriva dei continenti eccetera eccetera. Quindi il nostro pianeta è molto diverso da come era 4 miliardi e mezzo di anni fa. Al contrario, le comete, visto che sono oggetti che per la stragrande maggioranza della loro vita sono rimasti lontane dal Sole, proprio per motivi di come si è evoluta la nuova protoplanetaria e sono oggetti piccoli soprattutto, quindi alcuni chilometri di diametro, al massimo qualche decina di chilometri di diametro, proprio oggetti piccoli che non hanno né geologia, non hanno nessuna forma di attività e quando passano vicino al Sole sono, come dire, un campione quasi inalterato di com'era il sistema solare, di cosa c'era nel sistema solare 4 miliardi e mezzo di anni fa e quindi sono importanti da studiare perché gli elementi che loro emettono nello spazio sono quelli di quando è nato il Sole e il sistema solare e quindi è un pochino come avere la macchina del tempo e poter dare un'occhiata, anche se sfuggita, a quello che c'era nel sistema solare in quest'epoca così remota. Non c'è solo questo, le comete sono legate a doppio filo alla nostra storia di esseri umani, sono state loro insieme agli asteroidi a portare l'acqua sul nostro pianeta. Sono tante quelle che sfrecciano intorno al Sole visibili da Terra solo con apparecchiature professionali. Recentemente ne è stata scoperta un'altra, si chiama C-2020 F8, detta Svan, come il satellite le cui immagini ce l'hanno rivelata per la prima volta. È una cometa particolare, si muove su un'orbita estremamente allungata e in questo periodo sta passando vicino alla Terra. È visibile nell'emisfera australe, ma intorno alla fine di maggio sarà al massimo della sua visibilità, raggiungerà la soglia della visibilità a occhio nudo. Da cieli molto bui, in condizioni ideali e con un binocolo si potrà ammirare. Con un po' di impegno gli appassionati ce la possono fare. Non è una bella cometa da prima serata, alta sull'orizzonte, bella brillante come era ad esempio la Hell Bob del 97 oppure la Yakutake e quindi diciamo è una cosa sempre un pochino per astrofi, per appassionati di comete, perché non è quella cometa che uno esce di casa a fare la passeggiata al cane e se la trova lì davanti non fa nessuna fatica, questa bisogna proprio cercare. Le coordinate per trovarla sarà bassa sull'orizzonte, visibile a nord ovest alla sera, a nord est al mattino, da metà maggio in poi.